. Drev Barrymore irriconoscibile, ecco come si mostra oggi l'attrice, si è trasformata foto. Drev Barrymore irriconoscibile in aeroporto, l'attrice, sex symbol negli anni 90, oggi si mostra invecchiata e appesantita. Drev Barrymore è una delle attrici più conosciute chiacchierate di Hollywood, famosa a soli sette anni, per il ruolo dell'adorabile bambina nel film di Steven Spielberg. . Ha rischiato di bruciarsi giovanissima a causa della dipendenza da alcol e droghe, ma è riuscita a rinascere dalle sue stesse ceneri e a costruirsi una carriera ricca di successi. Oggi, a 42 anni, Drev è chiaramente molto cambiata, negli anni 90 posò per Playboy e divenne un sex symbol, oggi si mostra un po' appesantita e provata, forse anche a causa degli impegni familiari. . L'attrice ha infatti due figlie, di 5 e 3 anni, con il terzo marito Will Coppelman, dal quale ha divorziato lo scorso anno. . Drev Barrymore è stata beccata dai paparazzi all'aeroporto di Los Angeles, visibilmente stanca e con un cappello calato sul viso è apparsa molto diversa dalla sexy Dylan di Charlie's Angels, solo per citare uno dei suoi ruoli più noti. Dal ton del tempo passa per tutti e non solo per i comuni mortali, ma anche per le star di Hollywood, quando però come Drev Barrymore si è riusciti a costruire una carriera basata sul talento, i ruoli da interpretare non mancano mai. Adesso l'attrice è infatti impegnata sul set di Santa Clarita Diet, la serie Netflix horror-comedia nella quale interpreta Sheila, madre di famiglia morta in circostanze misteriose e diventata una zombie decisamente anomala e. .